Ciao a tutti ragazzi, sono Visione 660, oggi sono in un nuovo video. Oggi come ospite c'è lui, senza un occhio. Non c'è un occhio. Fermo la foto. Vabbè, questo è un vlog, io volevo farvi vedere delle mie foto, mi sono fatto, guardate, con la Vespetta, la Vespa 50, si vede? Speravo che l'avete visto. Poi ho questa che è di mio cugino. Non la ritrovo. No! Guardate che c'è mia sorella. L'ho trovato ora? L'ho trovato ora. Vabbè, sono bellissimo, guardatevi. Beh, una palla. Misterio. Ho fatto solo a me. Io non ho fatto niente. Se proprio lo volete capire, la polizia arresta queste cose in America. Arresta i bambini! Ora lo faccio diventare un po' sbilanciato. Guardate, fa manco 30 secondi di giro. Manco 30. Ancora di più. Vabbè, ce ne eravamo tutti. Vabbè, non ce ne sono messi. Vabbè, è pure normale, dando un lato di tre parte. È fisso. Con il suo squadro. Guardate, senza cuscinetti, eh. Aio, pare che non ci sta niente. Che figo! Pare che non ci sta niente. Aio. Non c'ho niente in mano, c'ho solo un pallino. Ok. Allora. Toast. Toast. Aspettate un attimo. Proprio un secondo manco. E qui con me abbiamo lei. Che non può mancare in nessun video di YouTube. Pam, pam, pam. Aio. 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 Ok. Queste sono le due cover di mia sorella. Unicord. Unicord. Più? Avete fame di patatine? Non prendete. Non andate al McDonald's e spendete 6 euro alle patatine. Ma prendetevi semplicemente una cover a patatine. Ma prendetevi semplicemente una cover a patatine. E spero che vi è piaciuto. E ci vediamo al prossimo video. Bye bye. Bye.